Cari amici, realizzo questo video per condividere con voi l'ultima applicazione che ho scaricato da iTunes No, da iTunes, da Apple Store Vabbè, insomma, ho scaricato un'applicazione che volevo condividere perché è un'applicazione innovativa per i video, per quanto riguarda i video Per realizzare filmati in Super 8 L'applicazione ha una parte di hardware abbastanza imponente Infatti per utilizzarla c'è un accessorio da utilizzare con il vostro iPhone E questa è la custodia Come vedete, adesso ve la faccio vedere Questa è la custodia, quindi c'è anche un pratico case per ritirarla E questa è la app che garantisce un effetto vintage Un effetto vintage veramente molto, molto realistico Adesso non ho ancora avuto modo di provarla Ma c'è chi negli anni passati l'ha usata e garantisce ottimi risultati Non ho avuto modo di provarla perché non ho ancora inserito la pellicola Che è una 8 mm E questa è la mia nuova app Non vedo l'ora di girare dei video Che potrò poi condividere Ecco, non so cosa si vede Ecco, guardate qua Ecco qua Questo è l'effetto praticamente che si può ottenere Se io faccio così Scusate un secondo ancora di pazienza Ecco, vedete c'è anche la pratica opzione zoom Ecco qua la pratica opzione zoom Funziona così Lo zoom Ecco qui Messa a fuoco Girerò qualcosa E poi vi farò sapere quali sono i risultati E poi vi farò sapere quali sono i risultati